Dopo la chiusura forzata dell'ultimo anno e mezzo abbondante, ha riaperto i battenti nel cuore di Casal Maggiore un angolo particolare in cui si può donare, acquistare e dove ci si può incontrare anche solo per regalare un sorriso. Si tratta dello spazio-tenda di fratel Francesco Zambotti, storico fondatore delle Tende di Cristo, le comunità ormai sparse non solo in Italia ma in tutto il mondo, in cui trovano rifugio e ascolto le persone con le problematiche più diverse. In questo spazio si possono trovare abiti di seconda mano, prodotti di artigianato locale provenienti dalle comunità del Brasile e del Messico e anche giocattoli. C'è anche uno spazio dedicato ai bambini per la lettura e il gioco. Finalmente riusciamo a riaprire questo spazio di incontro con tante persone bisognose nella realtà fisica ma anche bisognose di un contatto, di un aiuto, di una parola, di una manifestazione di qualcosa che hanno dentro, cose positive, cose negative, gioie, dolori, trepidazioni, speranze, tutto questo che fa parte sempre della nostra vita e questa speranza che supera quel limite viene poi donata alle persone che incontriamo. Tutto questo ci aiuta veramente a vivere profondamente anche lo scambio, il dono, la capacità quindi di donarci soprattutto un sorriso perché diventa molto importante riuscire a trasferire qualche cosa di bello, di dolce che c'è comunque sempre dentro di noi. Un modo diverso per conoscersi e fare rete. Questa proposta è venuta da altre associazioni, dalle ACLI e dalle ACLI e ODV, quindi unire le forze per un progetto comune ed è questo molto significativo perché comunque è una testimonianza che noi portiamo sul territorio come si può comunque essere comunità perché la nostra idea è che questo diventi un punto di comunità dove la persona entra, viene accolta, viene ascoltata e quello che mi ha colpito è stato proprio l'entusiasmo dei volontari che si sono avvicinati, che sono coinvolti in questo progetto. Grazie! Grazie!